Il mio lavoro mi appoggio moltissimo alla ricerca d'archivio, la partenza. Ritengo che studiare documenti, parti scientifiche possano spiegare molto bene quello che ci sta succedendo. Poi da lì diventa importante riuscire a condensare e a formalizzare il lavoro. Ogni ricerca dà vita a un progetto diverso e quindi a secondo del luogo o della persona o dell'evento che vado ad approfondire poi la formalizzazione è veramente molto diversa, tutte le volte differente. Possono essere delle installazioni che prendono vita anche con degli impianti sonori, possono essere delle performance in cui richiedo la collaborazione di performers che possano aiutarmi quindi ad esprimere al meglio i risultati della ricerca. Possono essere delle carte piegate, possono essere invece delle ricostruzioni o per esempio delle sculture in ceramica. Ciò che mi aiuta a mantenere attiva la parte di interesse, la ricerca è sicuramente primaria l'incontro con le persone. Normalmente tutto il mio lavoro ha molto a che fare con la relazione. Ad un certo punto ho fatto un incontro con un paleontologo e parlando con questo geologo professionista abbiamo approfondito alcuni temi legati al tempo e come questa sua professione, questa sua scienza utilizzasse delle forme espressive per parlare di un tempo così lontano. mi ha raccontato quanto un archivio sia anche semplicemente una porzione di terreno. Quindi come nello studiare delle fasce differenti di terreno si possa scoprire molto di quello che ci riguarda. Quello che mi ha suggerito per il territorio che stavo indagando è di andare a ricercare che cosa era possibile ancora trovare del nostro lontanissimo passato all'interno delle argille azzurre che sono questo materiale fantastico che si trova su moltissimo territorio italiano e che ha dato vita in moltissimo territorio italiano, quella che è la nostra cultura della ceramica. L'argilla azzurra ha all'interno una quantità di materiale fossile veramente molto consistente. La mia idea è stata riprodurre in una scala molto grande ma assolutamente proporzionata agli originali microscopici due fossili che sono i marker temporali, quindi l'inizio e la fine del periodo geologico in cui si può considerare nata l'argilla azzurra. Quindi era fondamentale per raccontare questi due fossili utilizzare proprio il medesimo materiale. Volevo che i fossili fossero fatti con loro stessi, quindi era una condizione veramente non discutibile quello di dover utilizzare proprio questo materiale per la realizzazione tridimensionale. Quindi grazie agli scatti del microscopio scansione che mi ha fornito lo specialista geologo siamo riusciti proprio a riprodurre il più verosimilmente possibile questi due esseri sono un'alga e un'foraminifero che ci raccontano di un passato veramente lontanissimo, il passato di Kronos. Il lavoro richiede la collaborazione con il territorio, quindi riaprire una cava storica di questo materiale e lavorare con le competenze dei bravissimi artigiani di Faenza è stato fondamentale per la realizzazione di questo progetto. Ci sono tre progetti che trattano della gestione e della comprensione del tempo il lavoro Clayton Code legato a Faenza e alle argille azzurre il progetto La luce naturale delle stelle legato alla presenza del planetario sul territorio di Milano il planetario Ulrico Oepli e Tu Identity per quanto riguarda l'ex acquario romano, quindi per la città di Roma. Per quanto riguarda il planetario, nell'ottantesimo anniversario di questo luogo ho pensato di portare sulla cupola esterna, quindi all'interno del parco di palestro le costellazioni che teoricamente si dovrebbero vedere sul cielo di Milano nell'equinozio di primavera utilizzando le mappe astrali che mi hanno fornito proprio gli astrofisici del planetario e per l'ex acquario romano il lavoro si è concentrato intorno alla figura di Pietro Carcanico che è questo imprenditore di Como, un piscicultore comasco che decide nel momento in cui Roma diventa la capitale del nuovo Stato italiano quindi alla fine dell'Ottocento di trasferirsi per portare la conoscenza scientifica rispetto al suo business e quindi fa di tutto perché il comune di Roma gli ceda un terreno pubblico su cui costruire dopo circa otto anni di impegno l'acquario e farlo partire con tre intenti, quello di studio scientifico, quello di mercato del pesce quindi di allevamento etiologico e di miglioramento della qualità alimentare anche di una fascia molto bassa della popolazione e della capitale quindi parlare di questa borghesia illuminata che tanto ha caratterizzato invece il nostro paese rispetto a quello che continuiamo a sostenere del disinteresse dell'italiano verso la collettività Grazie a tutti